Ciao raga, benvenuti in questo nuovissimo vlog Oggi domenica andiamo al centro di Torino Vi faccio vedere un po' come il centro nostro di Torino Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina Arriveranno in altri vlog perché inizia la Summer Edition Ci vediamo direttamente in centro con gli altri Siamo arrivati, Torino centro, siamo vicino Portapalazzo Adesso vi portiamo a vedere la famosa chiesa dove c'è il grande pito della grande cena di Gesù E poi man mano ci dirigiamo verso gli altri Poi vi faccio video appena l'incontro Alle mie spalle la chiesa e la grande torrazza qua Dove racconta la storia di un po' monumentale di Torino Adesso vi facciamo vedere dentro la chiesa come vi ho detto Niente, cambio di programma, la chiesa è chiusa perché oggi è domenica In conseguenza vi mostro un'altra clip Vi faccio vedere Piazza Castello Piazza Castello da ormai anni È piena di gente, musicisti, alla grande Ormai Torino è come per i turisti, è come un centro turale Quindi vengono a vedere, a visitare le vie, i musei E oggi noi vi faccio vedere un po' questa cultura di Torino Quindi recuperiamo gli altri Dunque, la Piazza Castello Poi vi mostro gli altri Torino è anche questa Un po' che sta suonando Guardate là che sta suonando Grandissimo, grandissimo Eccoli qua a Romanazzo Altri sono qua davanti Combo, combo Niente, siamo a Capoline 5 Ormai il vlog qua è finito perché stiamo tornati tutti in zona Cos'è che devono fare? Non lo sai E devono iscriversi al canale Attivare la campanella Campanello La campanella Mettere like E soprattutto fai un saluto Ciao E bene ragazzi Ah scusate, fate un saluto E a voi Bene ragazzi Ciao